Buongiorno amici, stavo sfogliando un po' di riviste perché volevo un attimino avere qualche informazione in vista del luogo che andremo a visitare al ponte della Maconata e vi faremo un video. Per me è molto importante essere documentato perché questo mi consente di gestire al meglio il mio tempo. Il tempo è una risorsa molto importante per noi camperisti e come lo misuriamo il tempo? Naturalmente con un orologio. Io per esempio per lavoro utilizzo questo tipo di orologio, vedete? A me però risulta più come uno strumento, è come fosse un piccolo pc, un piccolo computer, un mini tablet, ma ciò che veramente mi fa emozionare è quando nel mio tempo libero utilizzo dei segnatempo automatici, come per esempio questo cronografo, questo veramente affascinante con una numerazione ben leggibile, questo più piccolo ma elegantissimo. L'orologio secondo me incarna un po' lo spirito del camperista, ti deve procurare un'emozione e quindi domani sera alle 19 una live in cui tratteremo il tema dell'orologeria. Orologi meccanici, automatici o anche manuali o con movimento al quarzo, argomenti accessori diciamo al mondo del camper ma che come detto prima ci procurano un'emozione e l'emozione ce la procurano questi segnatempo. Io vi invito ad essere presenti domani in live, ne parleremo, ricordate domani alle 19 su Vado col camper, vi aspetto in live, ciao!